Noi abbiamo fatto la scelta di sviluppare i prodotti nel nostro territorio e penso sia ottimo che ogni regione promuova i suoi prodotti e noi promuoviamo i nostri prodotti della Toscana. Perché i Toscani? Perché abbiamo solo prodotti toscani. Siamo un'azienda quasi familiare, poco personale, ultimamente scelto con tanto sacrificio. Noi abbiamo fatto la scelta di sviluppare i prodotti nel nostro territorio e penso sia ottimo che ogni regione promuova i suoi prodotti e noi promuoviamo i nostri prodotti della Toscana. E' nato per sviluppare i nostri prodotti, per dare al cliente una buona qualità, quella che per ora ancora ci stanno riconoscendo tutti i clienti che vengano da noi tramite le recensioni. Che cosa troviamo quando veniamo a mangiare ai Toscani? Un ottimo prodotto locale, salumi quasi a chilometro zero, fiorentine maremmane, pisane o anche una selezione europea che ogni tanto teniamo. Poi i menù spiegano la provenienza della carne, della ciccia. Noi nel nostro menù abbiamo anche quello lì, portiamo sempre la bistecca a far vedere al cliente con peso e provenienza e quello lì poi se viene accettato sì o no, normalmente sì. Il suo sogno per il futuro? Andare avanti con questa linea qui che però ci sta dando molte soddisfazioni. Grazie a tutti.